Ave a tutti i miei legionari e barbara sono gli iscritti, io sono Alessio PCM e vi do il benvenuto e il bentornato su Crusader Kings 2 con il Gran Principato di Venezia, che penso di aver chiamato per molti video Serenissima Repubblica, però vabbè non importa. Siamo qui con il Gran Principe Alessio figlio di Satana che non so voi ma probabilmente diventerà il mio doge, l'ho già detto, il mio Gran Principe preferito. Come al solito voglio invitare Barbarazzino in iscritti e iscriversi e tutti voi a lasciare qua sotto un bel mi piace e a condividere la campagna. Non perdetevi la pagina della community sul canale dove pubblico sondaggi e novità sul canale per l'appunto e in questi giorni qualcosa pubblicherò e attivate la campanella qua sotto per non perdervi i successivi video. Ultime informazioni di servizio prima di questo bel video ovvero ho pubblicato due racconti se non lo sapeste ma immagino lo sappiate e se avete voglia ragazzi li potete trovare gratis al link qua sotto in descrizione. Perlomeno sono gratis su Kobo e scontati sugli altri due siti. Se li leggeste e recensiste mi fareste un grandissimo piacere e passerete spero un'oretta di qualità diciamo. Ok con già un primo taglio inizio video partiamo proprio bene ma scusate devo tossire io quando mi metto a registrare non tossisco mai ma mi sale che devo dire. Ok ci mettiamo la missione di costruire un world chest perché ci aumenterà le tasse e abbiamo decisamente bisogno di soldi ma tanti 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 anche se in questo momento in realtà abbiamo la flotta che ce ne consuma una bella tonnellata. Tra l'altro perché la flotta ha spostato questi uomini ma non questi sono estremamente confuso. Vabbè ok facciamo arrivare la nostra retinua a casa e poi tiriamo giù tutto. Tra l'altro come mi voglio comportare nei confronti della regina d'Italia che ha già cazzi a quanto pare. Eh niente me la son persa. Dov'è finita la capitale? Oddio è scomparsa. È scomparsa eccola qua. Allora è in guerra in una guerra di scommunicazione contro la Baviera. Beh il punto ragazzi secondo me sarebbe far sì che lei abbia più figli cioè sperare che lei abbia più figli e dargli più titoli di regno in modo che alla sua morte si spezzetti tutto. Penso che sarebbe l'opzione migliore con cui potremmo procedere. Poi fatemi sapere anche voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Poi abbiamo due Ducati uno che è Rugen che voglio comprare e chiediamo a questa ragazza qua Ducato di Rugen. L'ho fatto semplicemente per un po' di prestigio. Ok perfetto e tu sei diventata Ducessa. Non l'ho dato a lei perché? Perché è già Ducessa di tre Ducati quindi anche no. E possiamo anche usurpare no non posso più farlo perché non posso più usurpare la Repubblica di Silenica perché è in guerra. Perfetto ok non importa. A quanto pare la guerra è finita perché è morto tipo il titolare. Adesso c'è il Regno di Sardegna e Corsica e a quanto pare la Baviera è stata mangiata dai francesi. Nella serie ok. Io in compenso posso usurpare il Ducato del Tirolo. Ok che lo faccio per un po' di money direi. Poi sì daremo assolutamente il titolo a lui. Ok dove sei? Eccoti qua. Usurpiamolo. Perfetto. Garantisci Tito. Repubblica di Tirolo. Perfetto. Siamo sicuri che questa sia quella. Poi abbiamo qua da usurpare la Sirenaica. E non posso già più farlo perché non posso più farlo. Ah giusto perché non ho soldi. Mannaggia sono in debito. I mercenari se ne sono andati. Non li avevo tolti perché ho detto ma potrebbero servire. Ma facciamo che li tolgo perché siamo davvero messi male economicamente parlando. Ok alla fine ho risolto rinforzando le leve a metà. In modo da avere un minimo di guadagno. Tra l'altro stiamo guadagnando tantissimi soldi dal commercio. Ma in compenso dobbiamo pagare tutti i membri della nostra dinastia che sono alla nostra corte. E guardate ragazzi quanti soldi ha Belisario. Io direi che in un modo o nell'altro lui o suo figlio non ha figli. Devo un ereditare. Cioè ha 10.000 d'oro. Tra l'altro il fatto che non è eredi cosa significa? Che quando muore i soldi li ottengo io? Boh bella domanda. Allora ragazzi perdonando quello che se non ricordo male è stato amante di nostra moglie. Si penso fosse lui Kreslav. Ci togliamo il tratto crudele e non è male perché ci migliora di 5 le relazioni con tutti i vassalli. Tra l'altro sto facendo Sway con la Regina Ginevra e poi lo farò anche con il Prince Mayor Agostino d'Africa. Ok ragazzi ho usurpato anche la Repubblica di Sirenaica che penso darò 3.900 a lui, al Lord Mayor di Dubrook. Perché? Perché è il più debole e un bilanciamento di questo tipo è sempre abbastanza utile. No ragazzi non ci credo. Agostino ci ricatta e o aumentiamo i poteri del Consiglio oppure guerra civile. E sai che c'è? Non sarò minacciato. Faccio notare l'ampiezza di questa rivolta. Tu ragazzo mio verrai impicchiato. Anzi ti farò qualcosa di davvero orribile. Decido nel mentre cosa. Anche perché mi fai perdere davvero tanto tempo e di sicuro una barcata allucinante di soldi che non mi posso permettere di perdere. Ragazzi come se non bastasse abbiamo ottenuto il tratto ambizioso. Allora come ci comporteremo comunque in questo conflitto? Direi che l'opzione migliore è cercare di fare un'avanzata da questa parte e un'altra da sud in Africa. Per prendere direttamente la sua capitale e se possibile catturare lui. Dobbiamo stare molto attenti perché il nostro nemico ha davvero tanti uomini e noi davvero poche truppe. Ah Belisario ha avuto un figlio alla fine e io lo vuole chiamare Alessio. Chi sono io per fermarti? Ragazzi cosa molto interessante. Dato che voglio fare sway nei confronti di Ginevra posso incontrarla per organizzare un armistizio. Ah purtroppo lei non si fida abbastanza di me per incontrarmi di persona e hai paura. Eppure ha 65 d'opinione nei nostri confronti anche perché ho pressato la sua claim quindi. E questa guerra la voglio assolutamente vincere. L'Eptismania faranno molto se tutto va bene dovrebbe essere nelle mie manacce quindi speriamo in bene. Ah tra l'altro si stanno avvicinando 15.000 ragazzi qua sopra. Ok qua c'ho già i miei generali migliori. Direi che Jean lo mettiamo a comandare il fianco destro che sarà decisamente importante. Aspettiamo che arrivano, arrivino. Facciamogli locchiare il movimento e mandiamo le truppe di rinforzo. Poi direi che i rinforzi saranno d'obbligo se no qua non ce la capiamo. Allora Gerardo il nostro fedele vassallo mi offre 200 d'oro. Se noi gli promettiamo un favore. Certo, certo direi che è un'ottima idea la tua. E sei un vero amico della corona. Della corona. Non abbiamo proprio una corona dell'impero veneziano, del gran principato. Tra l'altro ragazzi abbiamo stravinto la battaglia qua e li abbiamo rimandati a casa proprio spezzati. Quindi bene così, assolutamente. Lasciamo l'esercito col comandante sempre qua. Spezziamo le truppe. Qua fanno movimenti strani. No? Ok, perfetto. Ok, abbiamo tra l'altro costruito il world chest. Quindi perfetto così. Abbiamo mille d'oro e direi che possiamo cominciare a ripristinare un po' le nostre renew. Probabilmente rischiamo di finire in rosso ma direi che ne vale la pena. Ah Agostina, adesso propone una pace bianca? No, mi dispiace, voglio la tua testa su una picca. Una storia particolare ha iniziato a circolare a corto ultimamente e si concentra su come... sull'epica, come dire, missione, l'epico atto con cui Abbondanzio provò la forza del suo carattere. E più noi sentiamo circolare questa storia, più desideriamo emularlo. Allora, possiamo cercare di emulare una leggenda. otteniamo più 5 d'opinione dai vassalli e otteniamo anche il tratto giusto. Cioè ragazzi, e questo è il figlio di Satana, faccio notare. Tra l'altro gli infapulotti hanno... hanno sbarcato a Venezia... hanno, sono sbarcati a Venezia e non sono riuscito, come dire, a sconfiggerli subito. Ma ho dovuto, come dire, riportare le truppe lì. Vabbè, comunque dovremmo riuscire a sconfiggerle. Il fatto che siamo diventati stressati non mi piace per nulla e direi che sarebbe opportuno entrare negli ermetici. Ok, perfetto. Così magari ci facciamo un po' di Eudaimonia, se si chiamava così, e spero di sì. E direi che per un pochino ci togliamo quel tratto e ci mettiamo magari famiglia. Anche se al momento non siamo sposati, magari è giunto di nuovo il momento di prenderci una moglie, magari una bella giovincella all'era, diciamo. Allora, vediamo un po'. Una anche brava naturalmente in stewardship e che non necessariamente ci deve dare dei figli. Lei, tipo Georgia, non mi sembra più niente male. L'unico dettaglio a suo favore è il fatto che l'Ottodossa, ma dai, va bene. Ci risposiamo, ragazzi. Allora, ragazzi, potrebbe esserci una battaglia terribile perché sono di nuovo riusciti sfortunatamente a sbarcare e io sono arrivato, come al solito, qualche istante dopo. Fortunatamente le mie truppe sono bastate e siamo riusciti a sconfiggioli. E direi che la guerra finisce così con un Enforced Demand. Perché non posso farlo? Facciamo passare un secondo. Ok, riproviamo. Nessuno degli holding di Agostino deve essere occupato da Berengere. Prego. E chi è Berengere? Ah, questo qua. Cioè, devo liberarmi... No, spiegami. Devo liberarmi di dei ribelli? Per te? Ups, ho tirato giù, tra l'altro, delle truppe qua e non è stata una grande idea. Vabbè, non importa. Spero sinceramente che le truppe dei vassalli in questa zona bastino perché, sinceramente, non è che ho molta voglia di rimandare le mie truppe in giro. Cioè, ragazzi, il tempo che io ho radunato le mie truppe sono arrivati loro con 8.000 uomini per liberarsi quel territorio. Non capisco come quel piccolo dettaglio non rendesse possibile, sinceramente, firmare una pace. E, tra l'altro, perché sono in guerra con il califo? Ma ha dichiarato guerra qua per qualcosa. Io non me ne sono neanche accorto. Scusa, califo, cioè, colpo... Ma che maleducato che sono stato. Ma che maleducato. Davvero una maleducazione profondissima da parte mia. Anzi, sai che c'è? Ti dirò di più. Adesso ti mando subito gli ordini santi. Niente, non è vero. Non te ne mando neanche uno perché sono tutti impegnati. Va bene, tiro su le truppe e arrivo. Allora, ragazzi, riesco a firmare la pace. Voilà. E abbiamo imprigionato il signorino. Tra l'altro, non so se abbiamo imprigionato anche gli altri capi della rivolta. Sì, direi di sì. Abbiamo quattro prigionieri, ovvero due duchi. Il Lord Mayor di Napoli. E questo è interessante perché, sapete cosa? Quasi quasi Napoli me la riprendo. Sì, dai. Me la riprendo e vedo di dare via qualcos'altro. Più che altro perché è davvero molto molto ricca. Quindi mi sembra un peccato non riprenderla. Poi, fammi vedere un po' chi altro abbiamo. Abbiamo il Prince Mayor di Africa. Io al momento ho quattro titoli di regno. Wow. No, scusate, tre. Anche perché ho dato off-screen la Galicia. Kind a reguido il saggio. Quindi, perché no? Magari potremmo anche fare una cosa. Ovvero, revochiamo un attimo il titolo ad Agostino. Eh, però si terrebbe tutto il resto. Sapete cosa? Quasi quasi Agostino lo perdono in cambio di un po' di soldi. Ok, perfetto. Mentre, per quanto riguarda Lucrezia, le rievo col titolo. E questo titolo sì che me lo tengo io. Ok, perfetto. E direi che ora è giunto anche il momento di dedicarsi un attimo al Califo, che è passato proprio inosservato, mentre mi dichiarava guerra per l'Utre Jourdain, che immagino... Ah, per questo? Ma che tenero! Si è fatto la sua piccola giada senza che io me ne accorcessi. Nella serie è grande. Tu sì che sai fare i conflitti. Bravo. Bravo davvero. Ah, tra l'altro ragazzi, io sono davvero troppo buono. Buono nei confronti dei membri della mia dinastia. Tant'è che cosa faccio? Uno, chiedo qualche soldo a Ginevra per uscire di prigione. Ok, e adesso che la signorina è uscita, le garantisco il titolo di Merchant League of Burgundy. Torna ad essere nuovamente una regina, in questo caso della Borgogna. Tra l'altro ha tre figli, quindi è perfetto perché quasi quasi la faccio diventare anche regina di Turinja, che è... non lo so... Oddio, regina di... cos'è che abbiamo? Carintia, che si trova qua. E sì, va bene, anche perché non ho neanche un territorio in Carintia, quindi... Oddio, potrei anche semplicemente dare il titolo a uno di loro, eh? No, troppo sì, sì. Facciamo quello da uno di loro, il titolo di regno di Carintia. Ragazzi, io non so resistere a un 84 di... di reputazione, cioè più che di reputazione, di... di opinione. Ok, perfetto, e ci siamo. Mi mancherebbe solo la Turinja da fare, che però io davvero non ho idea di dove sia. Cioè, suppongo che... che possa essere questa? Dejure... Ma sapete qual è il punto, ragazzi? È che, nel senso... non... non c'è nessun ducato. Cioè, secondo me non esiste più questo regno. Cioè, posso crearlo perché una volta c'era, ma adesso non c'è più. E quindi... boh, sono molto indeciso sul da farsi, dato che al momento non... ma sì, un po' di prestigio. E poi, che ci faccio col titolo? Ci faccio una cosa molto furba, dato che voglio molto bene in fondo a Ginevra. Toh, sei regina anche di Turinja. Non sei contenta? Ah, tra l'altro, ragazzi, a quanto pare devo... devo ricostruire i... come dire, il vassallaggio, perché al momento ho 44 vassalli. Direi che la cosa non è assolutamente buona, e quindi mi devo un attimo riorganizzare. Allora, ragazzuoli, qualche news. Ho ridato alla nostra Ginevra, al Regno d'Italia. Perché? Perché avevo un numero di vassalli sorbitanti. Erano tipo 37, o anche di più. No, forse li avevo portati a 39. Ho visto, sì, potevo diminuirli, dando via al Regno d'Egitto. Che, però, non vorrei dar via, perché è molto ricco, e, tra l'altro, avrei dovuto anche abbassare la centralizzazione a media. Fatemi sapere cosa pensate di questa possibilità nel caso dovessi rimettere le mani sul Regno d'Italia. Comunque, perché questo? Perché al Regno d'Italia ha davvero tantissimi vassalli, e molti sono sparsi, ed essendo, come dire, titoli ad cazzum, o meglio, che l'Italia ha ottenuto, perché li ha tenuti per tanto tempo, non potevo darli a nessun altro. Cioè, non potevo dare a lei titoli di questi territori, perché erano degli ore del Regno d'Italia. non potevo creare un titolo di Regno, perché effettivamente qua c'è l'Italia, come degli ore, quindi, ero un po' incartato, diciamo, e questa è stata l'unica possibilità che avevo. Cercherò di tenermi amici, naturalmente, i sovrani italiani, che avranno, pressoché fisso, naturalmente, un ruolo nel mio consiglio, direi che è l'unico modo in cui posso cercare di tenermeli buoni. Ah, tra l'altro, qual è il successivo piano? Bene, stiamo cercando di fare in modo che un membro della nostra dinastia sia legato alla famiglia imperiale. Lei ha una weak claim sull'impero bizantino, che tuttavia, se adesso lei è alla mia corte, potremmo anche pressare. Fatemi vedere un po'. Claim qua, claim là. No, ok, al momento non posso farlo, ma giustamente, perché per il momento sono ancora in betrall, non si sono ancora sposati. A chi l'ho promessa, non avrà tolto, bensì ad Alua. O Alois. Non so qual è la pronuncia polacca di questo nome, sinceramente. Ah, tra l'altro, ragazzi, il nostro Alessio ha qualche claim su vari territori, tipo potrei usurpare Sierte e non avrei alcun malo, se non naturalmente un peggioramento delle relazioni con questo ragazzo a cui rubo tutto. Fa parte del regno d'Italia al momento, quindi perché no? Facciamo che la usurpiamo e vediamo cosa succede. Succede che semplicemente ho il titolo senza avere il territorio. Cosa che non mi piace davvero per niente. Scusa, quindi tu sei diventato mio vassallo? Sì, è diventato mio vassallo. Ma sono estremamente confuso. Alla fine, ragazzi, molto semplicemente io ho ridato il territorio perché boh, non aveva senso. Mi sono fatto un po' di prestigio a gratis. Adesso che raggiungiamo i 15.000, magari potrò iniziare un nuovo cammino verso la fama. Ragazzi, sono successe cose. Ovvero, Ginevra per qualche motivo è morta. Non so bene come, probabilmente è morta di malattia, infatti, di polmonite. È vero che si era ammalata e Adalardo ha ereditato la la Borgogna mentre Scipione ha ereditato la Turingia che non esiste più e l'Italia. Ok, interessante. Tra l'altro Scipione vuole sposarsi mia sorella. No, vuole un matrimonio tra l'erede del regno di Lotharingia e mia sorella. Ok, questo vi permette di formare un'alleanza con te? No, perché sei mio vassallo e quindi niente, pace. Va bene, abbiamo 15.000 di prestigio ma non posso fare ancora la linea di sangue. leggendario. Ah, ragazzi, tra l'altro la Jihad alla fine la sta combattendo il Papa. Io ho visto che lui voleva unirsi alla guerra e mandare l'esercito e ho pensato perché no? L'ho lasciato andare molto serenamente. Wow, la nostra moglie ci ha aiutato nei nostri lavori da sovrano e ci ha fatto guadagnare 50 punti economici. Nei nostri lavori amministrativi, ecco, mi sfuggiva al termine. Possiamo passare di tech? Non ancora? C'è sì, con i Religious Custom. Bene. Ricciarda però non la chiami, dai, facciamo che la chiami Aurelia. Ragazzi, la Svezia si sta ampliando e, indovinate un po', si parate per la Svezia. ho trovato una ragazza che ha una Wick Lame e perché no? Noi ce la sposiamo e speriamo di avere un polo con la Wick Lame dato che può essere ereditata e speriamo naturalmente che la sovrano attuale continui a regnare a lungo. Long May Sheerain. Perfetto, tra l'altro stanno lottando per la Gavelkind in Borgogna e non è una guerra che mi piace molto sinceramente. Firmata una pace bianca. Ah, ha detto di no al furbacchione e ti faccio assassinare. Eh, 455%, come la mettiamo? Riuscirai prima tu a conquistarlo o prima io a farti fuori? Vedremo. Perfetto, siamo anche riusciti a costruire un grandissimo laboratorio che ci dà 50 punti economici, prestigio e learning. Quindi, meraviglioso. 300 punti esoterici e magari passiamo anche di grado nella società. No, non ancora ma ci siamo quasi. Non l'abbiamo assassinato, peccato. Ok, ora sì, ma ci hanno beccato e tra l'altro la guerra non è finita ma la continua la sua erede. Tra l'altro ho visto che in realtà non serviva nemmeno perché Adalardo è ben più potente. Nostra moglie l'abbiamo resa reggente e abbiamo chiesto di convertirsi e detto di sì e per festeggiare il tutto l'abbiamo messa incinta. Mi sembra un ottimo risultato. Bravi noi. Allora ragazzi, mi sono appena reso conto di una cosa. Possiamo far diventare i bizantini un nostro stato tributario e chi sono io per non farlo? Chi sono? Sono un ragazzo avido senza scrupoli fino nel midollo. Si va ragazzi, cioè si va. Il tributo forse ci stava quasi di più perché almeno mi li potevo chiamare in guerra e così non posso farlo. Però è anche vero ragazzi che voglio dire tributario a meno che non combattano per liberarsi sono nostri sono nostri e forse li possiamo chiamare nelle guerre difensive ma non ci giurerei. Tra parentesi dobbiamo anche difenderli. E finita tra l'altro la Shiad abbiamo vinto è stata una guerra molto impegnativa. C'è nata una figliola ragazzi tra l'altro io sto continuando ad ammassare le mie truppe e fra un po' dovrei essere pronto a sferrare la prima offensiva. Non la chiamiamo Amalia, Virginia no, Maria no, Brunilde e mi conquisti sempre con questi nomi non reni. Allora ragazzi i nostri eserciti sono nei territori dell'impero bizantino e non penso ci metteremo molto sinceramente a sconfiggerli perché hanno 10.000 uomini e dubito fortemente che li manderanno a combatterci. Tra l'altro una cosa che sto facendo adesso con i soldi extra che abbiamo sto ampliando i miei domini in modo da come dire potenziarmi in un modo diverso dall'espansione e penso che sia molto importante. È una strategia in realtà che bisogna adottare fin dall'inizio io l'ho fatto parzialmente mi sono dedicato soprattutto ai trade post per i soldi e ha senso come una repubblica mercantile se giocate con un regno pompate naturalmente i vostri territori consiglio standard sempre valido. Bene ragazzi 10 marzo 1104 quando l'impero bizantino si piegò alla grandiosa Venezia abbiamo abbiamo vinto adesso l'impero bizantino quindi è un nostro nostro stato tributario e sono sono estasiato cioè siamo abbiamo raggiunto davvero una una potenza formidabile cioè guardate che Roma tutto quello che si vede qua è veneziano che bello cioè vero non c'è ancora un polo sul sul trono qua al momento ma penso che ci potremo rimediare penso che potremo rimediare a questo ok ad ogni buon modo ragazzi io spero come al solito che il video vi sia piaciuto se vi è piaciuto mi raccomando lasciate qua sotto un bel mi piace e ci vediamo nel prossimo episodio tra parentesi ragazzi non so quanto dovrà ancora questa campagna perché a breve uscirà Crusader Kings 3 e penso porterò quella però di sicuro potremmo dire che questa è stata una campagna interessante decisamente anche molto più bella di quella che avevamo fatto con un personaggio all'interno dell'impero bizantino ok legionari stavolta vi saluto per davvero a tutti e a presto grazie a tutti